ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di investire consapevole oggi vorrei parlarvi di un etf proprio dell'investimento in etf legato all'indice msc world momentum ma prima di iniziare ragazzi come sempre vi ricordo di lasciare un bel like a questo video iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti ma iniziamo immediatamente a parlare dell'argomento di oggi allora ragazzi innanzitutto quello che è utile sapere è che questo etf è un etf settoriale legato all'indice msc world infatti va a considerare le aziende con un momento di prezzo al rialzo ma vediamo e analizziamo insieme questo etf per chi volesse investirci allora innanzitutto quello che dobbiamo vedere che ha come ticker ivmo quindi se lo cercate sul vostro broker o sulla vostra banca dovete inserire ivmo per trovare questo etf allora vediamo innanzitutto perché ivmo in esposizione dice a un gruppo di titoli dell'indice msc world che hanno evidenziato una tendenza al rialzo dei prezzi investimento diretto in società globali che evidenziano una tendenza al rialzo dei prezzi esposizione globale con un forte orientamento ai titoli che hanno evidenziato una tendenza di rialzo dei prezzi quindi ragazzi che cosa fa questo indice va a investire nelle aziende che hanno una forte componente di rialzo dei prezzi negli ultimi anni l'obiettivo infatti di questo di questo etf è questo il fondo mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento di un indice composto da un sottogruppo di titoli dell'indice msc world che hanno evidenziato una tendenza al rialzo dei prezzi quindi va a prendere i aziende che fanno parte dell'indice msc world quindi stiamo investendo comunque in in un azionariato mondiale le performance ragazzi le potete vedere qui se per esempio apriamo questa tabella ci dà un riferimento di quello che può essere il nostro ritorno per quanto riguarda un investimento di 10.000 dollari o euro negli ultimi anni questo fondo ragazzi è stato creato ad ottobre 2014 quindi ovviamente lo storico parte da quella data se avessimo investito 10.000 dollari avremmo avuto al momento circa 23 24.000 dollari quindi in sette anni avremmo fatto un avremmo raddoppiato più che raddoppiato il nostro capitale ovviamente ragazzi stiamo considerando un periodo storico in cui c'è stato un rialzo generalizzato dei prezzi su tutto l'azionariato globale ma per andare a guardare attentamente le performance vi invito a guardare la tabella con i rendimenti annui annualizzati complessivi e per anno solare che potete trovare sul sito dell'iShares che io vi consiglio di andare a consultare se investite in etf di questo gestore come potete vedere dal lancio abbiamo un rendimento composto medio annuo di circa il 15% poi ricordo che ci sono tutti i rendimenti un mese tre mesi cinque anni tre anni dal lancio potete trovare tutte le vostre tutto quello che cercate all'interno di questo di questo sito vediamo qual è la scheda allora come asset ragazzi parliamo di un fondo abbastanza grande capitalizza 2,5 miliardi di euro di dollari scusate 2,5 trillion dollar quindi molto grande e abbastanza sicuro la valuta di base è dollaro statunitense il lancio abbiamo detto 2014 è azionario 100% la struttura del prodotto ragazzi molto interessante replica fisica significa che il gestore quindi in questo caso l'iShares va fisicamente a comprare le aziende che sono presenti all'interno di questo sotto indice dell'indice MSC World il domicilio del fondo è Irlanda quindi è armonizzato alle normative europee l'indice benchmark e potete andarlo anche questo a ritrovare l'MSC World Momentum Index non ha distribuzione ovviamente perché parliamo di un prodotto ad accumulazione la frequenza di ribilanciamento delle azioni comprate dal fondo è semestrale quindi ogni sei mesi c'è un ribilanciamento sia un adeguamento alla nuova composizione di questo indice il ticker è IVMO come abbiamo detto già prima il gestore del fondo è BlackRock il depositario è State Street Custodial Services per quanto riguarda i costi abbiamo un TER quindi un Total Expense Ratio dello 0,30% quindi parliamo comunque di una commissione di gestione abbastanza contenuta e inoltre ragazzi qui abbiamo l'ISIN per chi volesse cercare questo prodotto con l'ISIN e abbiamo detto l'utilizzo dei rendimenti ad accumulazione la caratteristica del portafoglio abbiamo 42.400.000 azioni in circolazione e qui ci sono anche i rapporti price earnings la deviazione standard a tre anni insomma ci sono varie cose che vi invito ad andare a guardare abbiamo delle caratteristiche di sostenibilità che non commento perché sono abbastanza di dettaglio questi riferimenti ma chi vuole può andarseli a studiare e invece cosa molto più importante volevo vedere con voi le partecipazioni ovviamente ragazzi non ci potevamo aspettare altro se non una composizione quasi esclusivamente del mercato statunitense questo perché? perché il mercato statunitense è quello che sta performando meglio e quindi è logico che si vadano ad integrare azioni degli Stati Uniti infatti alla prima posizione abbiamo Microsoft Corporation Apple, Tesla, Amazon, Facebook, Nvidia Alphabet che sarebbe Google, PayPal e Adobe quindi qui vediamo sull'ultima colonna la ponderazione in percentuale di ogni singola azienda all'interno di questo paniere la ripartizione per esposizione abbiamo dollaro statunitense per il 77% yen giapponese per il 6% euro 6% dollaro canadese 2% e poi a scendere tutte le altre valute per quanto riguarda abbiamo anche dei dati relativi al prestito titoli ma vi invito ad andare a guardare da soli abbiamo anche le quotazioni nelle varie borse quindi c'è borsa italiana quindi andiamo sul sicuro noi se vogliamo investire noi italiani in questo indice in questo ETF molto importante ragazzi vi invito ad andare a leggere attentamente il KID che sarebbe praticamente le informazioni chiave per gli investitori è un altro documento molto importante che è legato proprio alla scheda informativa dell'ETF quindi questi due sono i documenti più importanti che vi invito ad andare a guardare ci sono tutti i dati che io vi ho letto vi ho spiegato in questo video ma spiegati un po' più nel dettaglio quindi ragazzi io per questo video è tutto vi ricordo che non sono un consulente finanziario quindi fate sempre le vostre analisi prima di andare ad investire in questi prodotti finanziari io vi chiedo di lasciare un bel like a questo video iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti vi ringrazio per la visione ci vediamo al prossimo appuntamento ciao a tutti